Salmo 7, così è scritto. O Eterno, Dio mio, io confido in Te, salvami da tutti quelli che mi perseguitano e liberami, che talora il nemico, come il leone, non sbrani l'anima mia, lacerandola senza che alcuno mi liberi. O Eterno, Dio mio, se ho fatto questo, se c'è perversità nelle mie mani, se ho reso male per bene a chi viveva in pace con me, io che ho liberato chi mi era nemico senza motivo, il mio nemico perseguiti pure l'anima mia e la raggiunga, calpesti al suolo la mia vita e stenda la mia gloria nella polvere. Ergiti, O Eterno, nell'ira tua, innalzati contro i furori dei miei nemici e destati in mio favore. Tu hai ordinato il giudizio, ti circondi l'assemblea, tu circondi l'assemblea dei popoli e poniti a sedere al di sopra di essa, in luogo elevato. L'Eterno giudica i popoli, giudica me, O Eterno, secondo la mia giustizia e la mia integrità. De, venga meno la malvagità dei malvaggi, ma stabilisci il giusto, poiché sei il giusto Dio che prova i cuori e le reni. Il mio scudo è in Dio, che salva i retti di cuore. Dio è giusto giudice, un Dio che si indigna ogni giorno. Se il malvagio non si converte, egli affila la sua spada, tende il suo arco e lo tiene pronto. Dispone contro di lui strumenti di morte e rende infocate le sue frecce. Ecco, il malvagio è in doglie per produrre iniquità. Egli ha concepito malizia e partorisce menzogna. Ha scavato una fossa e l'ha fatta profonda, ma è caduto nella fossa che ha fatta. La sua malizia gli ritornerà sul capo e la sua violenza gli ricadrà sulla testa. Io lo derò l'Eterno per la sua giustizia e salmeggerò al nome dell'Eterno, dell'Altissimo. Il salmo, il salmo che viene proposto da Davide, è come in altri salmi il prodotto di una grande prova e difficoltà. Qui si trova ad affrontare un nemico che vuole sbranare, lacerare la sua anima e si trova in grande distretta. Ora, conoscendo la storia di Davide, anche se non sappiamo a quale episodio questo salmo faccia riferimento, anche se nel titolo si parla di un suo nemico di cui però la Bibbia non porta notizia, sappiamo però che nel corso della vita di Davide, Davide ha affrontato tantissime situazioni difficili. Immaginiamo, ad esempio, quello che fu il tempo della persecuzione che Saul strinse intorno a Davide. Ma c'è qualcosa di straordinario che emerge dalla sua vita e dai suoi salmi. Il fatto che egli si sia sempre rifugiato in Dio e abbia cercato, sia nelle sue cadute, sia nelle sue lotte e nelle sue prove, l'aiuto di Dio. Ora, mentre scorrevo questo salmo e lo meditavo, il verso 6, che, vi ripeto, ritorna molto spesso, anche se in altra forma, nei salmi, soprattutto di Davide, ha colpito il mio cuore. Perché? Perché qui il salmista, dinanzi a un grande problema, chiede a Dio di ergersi, chiede a Dio di innalzarsi, ma ancora di più il termine che ha colpito il mio cuore è il terzo che usa, e chiede a Dio di destarsi. Ora, il termine destarsi è veramente particolare se è rivolto a Dio. Ora, chiaramente qui c'è una figura poetica, no? Perché i salmi questo sono, però considerate questo. Colui che dorme non agisce, è fermo, non opera. E nella parola di Dio, molte volte, Dio rivolge l'invito al suo popolo di svegliarsi e di mettersi all'opera. Ora, da questo punto di vista, noi riusciamo pienamente a comprendere il senso Dio che ci invita a svegliarsi. Ma qui è la preghiera. È la preghiera del giusto che chiede a Dio di cominciare ad agire. Non che Dio dorma, perché egli non dorme e non sonnecchia, ma in questo c'è questa figura poetica che vuole spingere Dio a cominciare ad agire. Ecco, è da qui che ci muoviamo. Anzitutto consideriamo questo aspetto. Cos'è che fa muovere il braccio di Dio? Anzitutto, la sua volontà. Egli opera secondo il beneplacito del suo volere. Egli opera secondo che ha stabilito. Ma la cosa interessante, e qui entra la grazia e il modo in cui Dio interagisce e ha comunione con gli uomini, è che Egli ha stabilito che la sua volontà si muova anche, e ripeto, anche attraverso la tua e la mia preghiera. L'episodio che prendo sempre, ad esempio, per giustificare quanto vi ho detto, è quanto accade al tempo di Elia. Quando Dio è Dio che stabilisce un periodo di siccità per punire il popolo e portarlo al ravvedimento, il popolo di Israele che si era ampiamente sviato sotto il governo di Aqab e di Izebel, è lui che lo stabilisce. Ma quando il tempo della carestia, quando il tempo della siccità è finito, è singolare il fatto che Dio, dica ad Elia, va sul monte e prega. Ed Elia non cessa di pregare finché ciò che Dio ha stabilito non si realizzi. La nostra preghiera dunque muove il braccio di Dio. Non a caso Giacomo ci dice che molto può la preghiera del giusto se fatta con efficacia. E noi dobbiamo riappropriarci di questa verità. Dobbiamo cioè capire che la preghiera del popolo di Dio e attraverso la preghiera del popolo di Dio, Dio adempie il suo volere nella Chiesa e attraverso la Chiesa. Molte volte l'Apostolo Paolo chiedeva preghiere, pregate che mi sia aperta una porta, pregate che io parli come devo dell'Evangelo, pregate per me, pregate per tutti i santi, pregate gli uni per gli altri. La preghiera dovrebbe caratterizzare la nostra vita. E dovremmo comprendere il significato, il senso stretto di intimità e di comunione che la preghiera stabilisce tra Dio e i Suoi figli. C'è una grande forza. E c'è nell'invocazione di un figlio. E questa forza noi dobbiamo metterla in atto. Crederci. La preghiera, in altre parole, dovrebbe essere la colonna della nostra vita. Il sostegno stesso di ogni azione. E comprendere benissimo e stabilirlo chiaramente come un punto fermo nella mente che senza la preghiera il braccio di Dio è rallentato. È interessante. È interessante scoprire una cosa. Cos'è che caratterizza il risveglio? E il risveglio è singolare perché? Perché non solo è il braccio di Dio a risvegliarsi, ma è il popolo che si risveglia. Il risveglio di Dio è il risveglio del popolo. Il risveglio del popolo è il risveglio di Dio. Ma come si manifesta nel popolo il risveglio? Quali sono le caratteristiche? Affrontiamo la prima. La preghiera. Il popolo risvegliato si incontra in preghiera, vive in preghiera e affronta la vita per mezzo della preghiera. Il popolo risvegliato compie sempre ogni opera accompagnandola con la preghiera. Atti degli Apostoli. Noterete questo? La preghiera accompagnava sempre, sempre, qualsiasi aspetto della vita. Qualsiasi aspetto. E quando il popolo pregava, Dio si muoveva e agiva. E c'era il risveglio della vitalità e della fede del popolo che si accompagnava alle opere che Dio compiva. E questo è un aspetto che riguarda non solo la vita comunitaria, ma la vita personale di ciascuno di noi. Se la vita personale di ciascuno di noi non è fortificata nella preghiera, la preghiera comunitaria non avrà forza. La forza della preghiera comunitaria è data dall'impegno che ciascuno di noi dedica alla preghiera nella sua vita privata. E questo quindi ci mostra un aspetto, e questo adesso è il punto a cui voglio aggiungere, che se è vero che la preghiera muove il braccio di Dio, è altresì vero che la preghiera che sgorga dal cuore del credente deve avere delle caratteristiche precise. Perché la preghiera da sola è del tutto insufficiente. Cosa intendo dire? Ma intendo dire quello che la parola di Dio ci insegna in molte parti. Ricordate la parabola del fariseo e del pubblicano? Entrambi pregavano. E se noi li dovessimo giudicare dall'esterno, senza pregiudizi in questo senso, vediamo due uomini che pregano. Uno certo prostrato, l'altro in piedi, ma questo è relativo a ciò che c'è nel cuore. Eppure, dinanzi a Dio, una preghiera è efficace, l'altra è del tutto inutile. Eppure entrambi pregano. Entrambi sono al cospetto di Dio. Entrambi sembrano rivolgersi a Dio. Ma ad una il Signore dà ascolto, all'altra no. Questo vuol dire che la preghiera in sé, anche se è espressa, non è sufficiente. Deve avere in sé delle caratteristiche che la rendono udibile a Dio. E nei salmi voi troverete, in gran parte di essi, una netta distinzione che inizia dal salmo primo, cioè la differenza che c'è tra il giusto e l'empio, tra colui che è retto di cuore e il peccatore. E allora qui il tema diventa interessante. Noterete che Davide, in questo salmo, fa spesso riferimento alla sua giustizia, alle sue opere. Non che egli non conosca la grazia e non sappia con chiarezza che solo la bontà di Dio può essere il fondamento delle risposte. Ma egli presenta se stesso come colui che ha timore di Dio e che alla preghiera affianca l'obbedienza alla parola di Dio. Ed è questo l'elemento di cui vi voglio parlare. Perché, vedete, mentre sto meditando il libro dei salmi, mentre leggo i salmi e cerco di approfondirli, cerco di soffermarmi su ogni singolo verso, io scopro che molti sono coloro che ricercano rifugio nell'Eterno. E anche qui, mi veniva in mente, ma se lo stolto, se l'Empio cerca rifugio in Dio, lo troverà ad una condizione che si ravveda. ma se l'Empio nella sua impietà cerca rifugio in Dio, non troverà niente nell'Eterno. Niente. E se voi ci fate caso, questo è un tema che ricorre sempre nella parola di Dio. Ricordate quando Baalam voleva maledire e non poteva farlo, perché ciò che Dio benedice nessuno può maledire. E dovete andare da Baalam e dirgli guarda che io non posso fare niente di quello, oltre quello che il Signore dice, se Dio benedice io non posso fare nulla. Questo è un popolo inattaccabile. A meno che a meno che Baalam è bell'illuminazione. Io non posso maledirlo, ma essi possono maledire se stessi. Come? Prendi delle donne e mandale nel campo a offrire se stesse agli israelite e tu vedrai quello che succede. Le donne andarono, sedussero gli israelite, e la piaga diretta di Dio li colpì. Il peccatore non trova rifugio se non si ravvede. Perché vi sto facendo questo discorso? Eh, vi sto facendo questo discorso perché perché ci sono nella nostra relazione con Dio due elementi fondamentali. Dio e noi come singoli e come insieme. Io desidero vedere la gloria di Dio. Voi desiderate vedere la gloria di Dio. E il Signore nella sua grazia ci ha dato i mezzi perché Egli ha stabilito per noi la sua gloria. Egli non ha fatto promesse insignificanti. Egli non ha fatto promesse sciocche. Egli non ha fatto promesse da nulla. Se noi leggiamo gli atti degli apostoli noi scopriamo che già per questo tempo Dio ha promesso di inondare la sua chiesa con fiumi di Spirito Santo. È una verità. ha promesso che la condizione che Egli desidera e brama per la sua sposa sia una misura scossa pigiata e traboccante. E gli atti degli apostoli ce lo dichiarano. Ma perché la chiesa fosse perfetta? Non perché la chiesa fosse perfetta. No. Non fraintendete io non sto dicendo questo. Ma la chiesa cercava la perfezione. Ed è questo il punto. La chiesa ricercava la perfezione. La chiesa camminava nel timore al tempo degli atti degli apostoli. La chiesa sentiva percepiva la santità di Dio nel suo mezzo. nella chiesa neppure una menzogna poteva essere pronunciata senza che il cuore tremasse alla presenza di Dio. E tutti erano presi da gran timore e osservavano la parola di Dio udivano gli insegnamenti degli apostoli e camminavano nel timore di Dio nell'osservanza della parola del Signore. Ed è questo che dà forza alla tua preghiera. Vedete io credo che Dio abbia dato agli uomini nella preghiera una potenza che noi stessi non riusciamo neppure a comprendere lontanamente ma abbiamo bisogno di rinvigorirla questa preghiera abbiamo bisogno di renderla potente se nel mio cuore custodisco e albergo l'iniquità e parlo in senso generale ognuno di noi può far riferimento a ciò che il Signore gli mette dinanzi come posso io poi presentarmi dinanzi al Signore e sperare che la mia offerta l'offerta delle mie labbra gli giunga gradita è follia è un non senso l'offerta non poteva essere macchiata non sarebbe salito come un profumo d'odor suave non poteva essere contaminata l'offerta che si metteva sull'altare ed è in questo che il Signore dice ancora oggi alla sua chiesa santificatevi perché io devo compiere meraviglie nel vostro mezzo e io lo credo lo credo profondamente ma se il braccio di Dio sembra raccorciato se la mano di Dio sembra non operare come Isaia dice dov'è il problema dove e allora io credo che dinanzi a noi si apra la possibilità di una gloria meravigliosa di una gloria che io e te non possiamo neppure misurare la parola del Signore prepara dinanzi a noi qualcosa di glorioso noi siamo siamo la Chiesa dell'Eterno noi siamo il frutto del tormento dell'anima sua noi siamo ciò che egli ha pagato a prezzo del suo sangue egli si è posto dinanzi l'ira di Dio per te e per me per noi egli ha preparato un regno di gloria eterno ma il punto è che proprio per l'alta dignità che Dio ci ha dato egli vuole che questa dignità sia rispecchiata dal nostro cuore dalla nostra condotta ascoltate ma voi siete una generazione eletta un sacerdozio regale una gente santa un popolo che Dio si è acquistato affinché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce ma voi lo capite qua di che sta parlando ma voi lo vedete questo popolo che si distingue che brilla come luce nelle tenebre che ha ripudiato ogni cosa che è impura che è perfettamente consacrato alla vocazione che gli è stata destinata che ha in cuore il senso della santità e della purezza dell'iddio verso il quale si sta avvicinando a grandi passi lo vedete questo popolo che ha deciso di allontanare da sé tutto ciò che è putridume peccato e fissa lo sguardo verso il cielo che gli appartiene e combatte con forza contro tutto ciò che vuole inquinarla lo vedete riuscite a coglierlo in questo in questo verso salta fuori in modo magnifico Pietro riesce a trovare le parole più gloriose per esprimerlo ecco da questa chiesa descritta così mirabilmente da Pietro sale su un odore di purezza di santità e questa questa purezza questa luce questa gloria questa santità che fa gioire il cuore di Dio ecco questo questo è ciò che deve elevare le nostre preghiere dinanzi al trono dell'etello non possiamo infangarci non possiamo albergare il peccato non possiamo essere tiepidi per se non freddi dinanzi a Dio e poi sperare che l'invocazione abbia l'effetto di un tuono che ti rompe Dio vuole muovere il suo braccio oh se lo vuole oh se lo vuole guardate la croce e comprenderete quanto lo vuole ma c'è una cosa che Dio fa sempre lo ha fatto nell'antico testamento con il suo popolo e continua a farlo Dio disciplina la sua chiesa privandola della sua presenza questa è la verità ma noi nella grazia di Dio abbiamo un'arma che è talmente tanto potente ed efficace a causa della bontà del nostro Dio che è la confessione il pentimento il ravvedimento oh glorioso Dio che sa dimenticare ogni nostro errore che sa gettarsi dietro le spalle sotto i piedi in fondo al mare ogni nostra l'ordura beato colui che si presenta arreso alla presenza di Dio e con il libro in mano supplica il Signore prima di elevare le sue richieste che il suo cuore sia secondo la parola di Dio ecco quello che la chiesa oggi deve considerare oh generazione eletta sacerdozio regale gente santa popolo che Dio sa acquistato noi siamo stati chiamati per proclamare le virtù di colui che ci ha acquistato non per confonderci con le sozzure di questo mondo noi siamo una generazione santa siamo tagliati fuori e dobbiamo tagliare fuori questo mondo in ogni suo aspetto e dobbiamo donarci a Dio basta siamo morti a questa realtà siamo morti a questa realtà siamo morti a questa realtà di peccato ma siamo viventi a Dio oh se potessimo anche noi rispondere come il piccolo Samuele ad ogni richiesta della parola di Dio potessimo noi dire eccomi parla perché il tuo servo ascolta e ascolta per obbedire per consacrarsi per cercare e io Signore non sopporto che i miei abiti possano in alcun modo portare con sé l'odore del peccato Signore io voglio che la grazia che tu mi hai dato possa traboccare in frutti gloriosi per me per la Chiesa per il mondo questa è la Chiesa dell'Eterno questa è la sposa dell'Eterno candida purificata dal sangue di Cristo ma anche da una condotta che rispecchia obbedienza alla parola di Dio nei pensieri nei sentimenti nei desideri nelle parole nelle azioni poiché noi siamo chiamati a santità nello spirito nell'anima nel corpo oh fratelli la gloria è lì dinanzi a noi osservate osservate il salmista che dice con forza e con la convinzione della fede e dice ergiti o Eterno nella tua ira innalzati contro i furori dei nemici e destati in mio favore perché perché il mio scudo è in te perché perché io lavo le mie mani nell'innocenza per comparire al tuo cospetto perché perché cammino nel tuo timore perché la tua legge nella mia mente giorno e notte in essa medito del continuo perché odio ciò che tu odi perché desidero mettere in pratica la tua parola con serietà signore ergiti perché con tutta la mia vita io grido a te ecco quello che negli atti degli apostoli fecero i fedeli semplici difettosi come noi miseri e senza forze e quando furono messi stretti dalla morsa della persecuzione verso la morte essi citando un salmo chiedendosi il perché di quella ribellione dinanzi a tutti i loro nemici li misero in preghiera davanti al Signore e poi dissero adesso considera le loro minacce e concedi ai tuoi servitori di annunciare la tua parola con ogni franchezza erano peccatori come me e te piangevano sulle loro debolezze come me e te erano fragili come me e te ma fecero una scelta nella loro fragilità nella loro debolezza di vivere fedeli al Signore in ogni cosa anche quando la vita loro stessa era messa in pericolo per questa scelta fedeltà alla tua parola ad ogni costo anche fino alla morte e subito immediatamente l'Eterno si alzò e il luogo dove stavano tremò e tutti furono ripieni dello Spirito Santo noi siamo la stessa chiesa riscattata dallo stesso sangue fratelli armiamoci dei loro stessi sentimenti di santità e purezza e doniamo a Dio ciò che gli è dovuto e allora vedrete se l'Eterno non apre le cataratte del cielo e riversa su di noi tanta benedizione che non sapremo dove riporla a l'Eterno